Allora, qua siamo sul lago di Levico, con i due uomini pedalatori, guarda che bravi, beh io sono qua, ciao ciao, i due uomini pedalatori, sole non ce n'è ma il cappellino di Fabrizio, è un must, la signora Lille Maider, e Vanessa, e stiamo cercando di arrivare da qualche parte a trovare una porta, vedremo. Io ho una condizione davvero molto buona, ma in teoria ci sono delle foto, oggi siamo in ottima compagnia, guarda che bella compagnia, guarda, 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 compagnia, sorridi, sorridi compagnia, di brutta compagnia è solo il medio, il resto va tutto bene. Abbiamo il nostro marinaio qui, questo marinaio è un secondo, prende adesso? Terra, terra, come no? Da dove si entra? Vedi, guarda, guarda la prospettiva, c'è uno che sta affogando rispetto al paese che è che sta, secondo me è più in giù, leggermente più in giù, comunque guardiamo, c'è uno che sta affogando, eh no, c'è andare in quello qua, vedi? Ah ma stai riprendendo? Sì, 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 eccolo, il numero è sotto, vedi, 1-9-4-4, è sulla roccia, sulla scritta blu, abbiamo trovato la secret door, la secret door abbiamo trovato, la secret door, yes, of course, allora, chi è che prende la posizione qua? Grazie ai romani siamo partiti dal lido di Levico, molto lì lontano, abbiamo cercato una porta grazie alla mia vista che abbiamo trovato, grazie ai piedi asfaltati di Fabrizio abbiamo trovato anche the secret door of the lake, Levico, si è sporcato tutta la maglietta della Lacoste, come si fa? Sperando che ne abbia una, tutto il fodrillo, caldo, e noi siamo sempre qua, ma con il sole, spavore, molto calore, molto calore, il tempo ci assiste, sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì non è freddissima comunque l'acqua ma no aspetto Brian ora siamo qua con i romani tre romani c'è Vanessa che sta pedalando e Marco e stiamo tornando alla base i nuvoloni ci sfidano ma noi abbiamo trovato la cache lì ci sono stati no bravi di più una T5 e salutiamo io sono qua siamo l'MSG Team ciao Marco ecco